ciao tu lo sai che ogni evento spiacevole e negativo tra virgolette della tua vita in realtà nasconde un dono si guarda ci sono tante persone tutti noi viviamo delle situazioni un pochino spiacevoli nella nostra vita che di cui faremmo volentieri a meno il fatto è che se noi ci permettiamo di vedere oltre e di non valutare semplicemente l'evento fine a se stesso abbiamo la possibilità di avere una visione molto più ampia della situazione che stiamo vivendo ad esempio se accade qualcosa che non ti fa stare bene di qualsiasi tipo non fermarti semplicemente a maledire quel quell'evento e dire quanto ne avrei fatto a meno piuttosto permettiti di ascoltare le tue emozioni le tue sensazioni come ti senti e poi vai oltre vai oltre in che modo una cosa che faccio sempre è quella di chiedermi che cosa mi sta cercando di mostrare questo evento cosa devo comprendere cosa mi sta facendo vedere in che cosa posso migliorare grazie a questo evento ecco questa è la mia strategia proprio quando accade qualcosa di fastidioso non ti dico che io dico subito ah che bello una bella occasione di crescere è logico che sia una cosa spiacevole e spiacevole per tutti non sono tanto dell'idea di chi finge che tutto vada bene peace and love no perché non è autentica questa cosa di fido a meno che una persona non sia totalmente illuminata personalmente ancora non ne ho incontrate di fido delle persone che non si permettono di percepire le loro emozioni perché comunque in qualche modo non è che non le stanno sentendo le stanno reprimendo appunto se non sono arrivate al livello dell'illuminazione ma personalmente con tutte le bellissime persone che ho conosciuto non ho ancora conosciuto nessuno di completamente illuminato quindi restiamo con i piedi per terra succede un evento sgradevole nella tua vita speriamo di no però diciamo leggermente sgradevole così una cosa fastidiosa cosa succede prima cosa mi permetto di sentire le emozioni quindi mi sono arrabbiato sono frustrato sono mi sento male che barba poi ovviamente se conosci la divine connection ti suggerisco di utilizzarla proprio per espandere queste emozioni queste sensazioni per sentirti meglio dopodiché ti suggerisco di fare questo passaggio di chiedere che cosa mi sta dicendo questo evento cosa mi sta cercando di mostrare questo evento che cosa posso migliorare di me grazie a questo evento facendoti tutte queste domande positive che non sono perché a me perché invece questa domanda è una domanda che tu ti poni nel momento in cui ti poni come vittima a questo non ci interessa nel momento in cui tu ti fai queste domande apri a te stesso la possibilità di ricevere un'informazione questa informazione può arrivare dal dagli esseri di luce dal tuo subconscio insomma non importa facilmente arriverà dalle tue parti sagge perché questo modo di porre le domande è un modo che ti connette con quelle parti di te che sono sagge e che ti permettono di ricevere una risposta funzionale e utile quindi la prossima volta che ti dovesse capitare un qualcosa che proprio non gradisci ti suggerisco di fare questo subito ok e potresti scoprire che in un evento che apparentemente era negativo si nasconde un grandissimo dono ti faccio un mio esempio anni fa dovevo partire dovevo partire per la Germania dopo qualche giorno e una sera ero in giro in auto abitavo ancora in Italia e mi si fora una gomma ero in città era sera e mi trovo con una con una gomma a terra sicuramente non è piacevole soprattutto perché è avvenuto di sera allora cosa ho fatto chiamato il carro attrezzi e subito ho cominciato a chiedere ma come mai è successa questa cosa cosa sta cercando di mostrarmi cosa sta cercando di farmi vedere eccetera eccetera il giorno dopo vado dal gommista dopo aver ricevuto l'informazione dal carro attrezziamo questa gomma facile da riparare gliela riparano tranquillamente vado dal gommista e il gommista dice e no guardi non possiamo riparare questa gomma perché è tutta logorata mi ha fatto vedere proprio all'interno della gomma che la gomma era completamente logorata non si sa per quale motivo ed era molto molto pericolosa quindi in realtà che cosa era successo visto che io la settimana successiva dopo tre quattro giorni non ricordo più ma dopo pochissimo tempo dovevo partire fare un viaggio di più di mille chilometri e in realtà questa cosa mi ha salvato la vita e non solo a me perché avevo comunque la macchina piena dovevo partire con tante persone in auto quindi avrei avuto la macchina pesante e avrei percorso tanta strada in una situazione di pericolo non sappiamo che cosa sarebbe potuto accadere quindi in realtà il fatto di trovare la gomma a terra è stato un grandissimo dono comprendi come a volte le situazioni possono rivelarsi positive anche quando all'apparenza in realtà possono sembrarci scomode sconvenienti addirittura scoccianti come in questo caso ci sono tantissime situazioni anche peggiori che in realtà nascondono dei grandi doni al loro interno ricordiamoci sempre che la vita si muove per il nostro bene supremo e non accade mai a te accade sempre per te e con questo ti saluto e ti auguro una bellissima bellissima esperienza dopo le cose che hai imparato in questo video e ci vediamo al prossimo ciao se il video ti è piaciuto lasciami un like e lasciami un bel commento proprio qui sotto